non so se è riuscita a vedere la pasta proprio che elastico ciao grazie di essere qui con me oggi oggi faccio un video un pochino particolare un video eating un po' particolare perché andiamo a mangiare dei mochi 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 quanto sono carino e ha diversi gusti questo video è stato richiesto tantissimo da tantissime persone su instagram e io ascolto tanto le persone che mi seguono e che mi suggeriscono video quindi tra l'altro io propongo anche dei bei contenuti secondo me su instagram quindi se volete seguitemi come chiara.smr in ogni caso appunto mi hanno visto comprare e mangiare in alcune storie questi mochi e mi hanno chiesto chiara ma sarebbe bellissimo se tu facessi un video eating con questo alimento e quindi mi sono detto e quindi mi sono detto dopo veramente aver visto tante tante persone che mi hanno chiesto e ho detto ok può essere interessante non li mangerò tutti ma mangerò questi cinque un, due, tre, quattro, cinque e vi dico i gusti poi per vedere le scatole, la marga e vi dico un po' tutto come li trovo lascio poi a fine video se siete interessati a questa parte allora abbiamo cioccolato cioccolato, cioccolato fragola vaniglia frutto della passione macia mango e pistacchio sono casatissima ho messo questo piatto in congelatore con questi sopra così se ne va bello fresco il tutto cosa sono i mochi? sono dei dolcetti giapponesi che hanno questa pasta intorno vedete sono un po' elastici un po' molli e hanno questa pasta morbida sopra glutinosa un po' elastica un po' zuccherosa e dentro gelato ai vari gusti adesso faccio l'immagine di copertina ok ok andiamo cominciamo subitissimo direi e voglio provare un gusto che non sono sicura mi piacerà quindi lo voglio provare per primo ed è il gusto matcha pochimochi matcha mochi e adesso vi faccio vedere anche l'interno ok vedete leggermente farinoso non so come descriverlo è elastico farinoso non è croccante ok mi si scioglie proprio fra le mani sono un botto 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 di matcha fanno rumore molto delicato vorrei cercare di far vedere fino all'interno sono fatti così quindi hanno il gelato dentro e questa pasta fuori devo dire che è buono sa proprio di matcha latte non so come dire questo è il mio dolce preferito in assoluto il gelato il gelato è il mochi vuole andare in giapare anche solo per manzarne vuole andare in giapare anche solo per mangiare in generale mi sono scordata una cosina cioè il bubble tea aspettate ho preso anche un bubble tea non so se vedete non ci sono proprio in realtà delle bubble no non ci sono delle bubble vabbè vediamo ed è un bubble tea al mango non ho mai assaggiato il bubble tea ho assaggiato su una volta una cosa simile ma era un succo di frutta non c'era il latte mi sa che c'è il latte quindi lo dicerò fra 30 anni ok allora è esattamente un mix fra latte e mango cioè sei esattamente di latte combinato col ma è molto dolce e dentro ci sono queste gelatine di cocco non avevo capito non fossero palline no peccato dentro ci sono queste sono tipo delle carameline di cocco proprio gel gelatine è salvo su praticamente ad ogni sorso l'ultimo sorso mi dispiace ma non è una cosa che riprenderei il posto si chiama 1T e non è da sia una catena anche perché guardate comunque è questo esattamente il colore della bevanda perché il resto è trasparente non me l'aspettavo oddio chissà quanto colorante c'è ok passiamo al secondo assaggio di mochi non lo so provo frutto della passione che in realtà questo lo conosco già ce l'avevo già da prima, l'ho già assaggiato ed è molto buono, molto fresco e guardate poi com'è bello questo colore roso è bellissimo e dentro il gelato è appunto giallo non so se è riusciato a vedere la pasta proprio che è elastica si è un po' sfracellato devo dire colore è bellissima con vari colori non è proprio anche esteticamente uno metto a poco anche esteticamente sono stupendi con che non è 천 in 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 la pasta elastica si scioglie un pochino non saprei bene come descriverla è un po' strana ok allora io in realtà adesso voglio assaggiare questo alla vaniglia non avevo previsto di assaggiarlo però sembra fare un bel suono questi sono di una marca diversa rispetto a tutti gli altri e sembrano quasi non sono fatti bene perché sono vedete un po' duri non sono molli non so se vedete tipo qui vedete si è rotto quindi non è elastico non so non sono di panna c'è proprio dentro sembra quasi panna sono buoni ma questa copertura non è del mochi non dà così tanta soddisfazione soprattutto è molto dolce proprio un po' suappi bello Sì, 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 sì. Il prosciutto è diverso, sono molto meglio gli altri. Poi un pochino di bubble tea. Ok, adesso che l'ho riassaggiato, che secondo me mi sta abituando, c'è veramente troppo di latte per me, troppo, troppo, troppo. Non ti sono più misurata proprio al latte così, va bene il gelato con latte e i dolci con latte, ma il latte è proprio così come bevanda. Faccio molta, molta fatica. Niente, bocciato, peccato. Allora, altro mochi. Abbiamo questo al cioccolato. Anche questo è di una marca diversa e si vede, ma questa marca invece mi piace molto. Scusate, già mi che sbuffo. Ok, si sta sciogliendo. Questo ha anche del tipo cacao sopra. Buono. Scusate, già mi piace molto, mi piace molto, mi piace molto, mi piace molto, mi piace molto. Ok, ho fatto lavarmi le mani. Lascio acquarmi la bocca e torno per gli ultimi due. Mi sono tenuta i due migliori per la fine. Lascio testare questo che è della stessa marca, di cuore la vaniglia e la fracola, l'ho messo solo per scena. Mango e pistacchio. Mi piacciono entrambi da matti. Assaggio prima il mango, che è del mio colore preferito. E' bellissimo, mio Dio. Sono andata a sostituirli con degli altri nella confezione. Congelati invece. Gli altri li ho rimessi nel congelatore. Scusate, pensavo di aver avviato l'audio, invece non l'avevo avviato. Ho dato il primo morso al mochi, al mango, perdonatemi. Allora, il mango non è dei miei frutti preferiti, ma lo mangio molto poco perché non è di queste zone. Però a settembre e ottobre diventa stagione in Sicilia, quindi penso ne farò proprio la scorta. Ed è un colore stupendo. Così si vede bene dentro, il gelato dovrebbe essere abbastanza compatto. Così si vede bene dentro. Da quello che so, non è impossibile farli a casa. Infatti quando torno dalle vacanze ci proverò. Perché non torno proprio farina di riso glutinosa. Ok, i miei denti stanno soffrendo un pochino, un pochino i denti sensibili. Ma i sonni sono decisamente meglio col mochi, un po' più fresco. Ultimo che assaggiamo è il mochi al pistacchio. Io invece non ne mangerai altri mille. Non me ne sono stancata. Cioè, li adoro. Aiuto. Questo so già come è già assaggiato in alcuni ristoranti è... Aiuto. Dentro ha un colore un po' strano. E' un bianco leggermente verde. Che io vedo quasi blu. Non lo so. Forse la luce. E' stra buono. E' stra buono. Ok, gli ultimi due morsi. Mi stanno gonciando il dita. E' stra buono. Ok. Sono stra buoni. Troppo buoni. E adesso vi faccio vedere. Prima di concludere questo video. Spero vi sia piaciuto anche un pochino il sonno telecicale sottofondo. Vi faccio vedere le confezioni di quelli che mi piacciono. La marca più famosa dei mochi. Quelli che ho sempre visto anche magari nei ristoranti. E' quella che io ho fatto vedere anche. E' il video contro il caldo. Ok. Questa qui si chiama Wow. Io ho un'idea se la vendano anche online. Punterà al gusto matcha. Io li ho trovati al matcha, al pistacchio, al cocco, al mango e al frutto della passione. Penso che ce ne siano comunque altri gusti. Siccome anche al cioccolato ci sono. E scusate. Questi io li ho trovati in un negozio alimentare asiatico. Di solito questi negozi sono appunto pensati anche per le persone principalmente di origini cinesi. Che vogliono comprare appunto prodotti comunque del loro luoghi o per fare i loro piatti. Questo penso sia appunto giapponese. Però in generale penso sia un dolce che piace. Giustamente. E l'ho trovato appunto in un negozietto asiatico. Che vende appunto alimentari. Questi negozi diciamo che non vi fate ingannare. Perché possono essere veramente brutti dall'esterno. Ma hanno dei prodotti molto interessanti. Questo in cui ho trovato questo era. Cioè non sembrava neanche un negozio da fuori. Però dentro c'erano tantissimi emoji. E sì. Di solito se li volete trovare. O se ti è Milano e andate in zona. In Chinatown. Oppure cercate dei negoziati intorno alla stazione. Di solito si trovano lì. E poi questi. Questi sono invece diciamo secondo me più europei. E li trovo all'esterno lunga. Nel reparto congelati. Sono della Little Moose. Little Moose. E li ho trovati al cioccolato e alla vaniglia. Questi al cioccolato sono vegani. Quella vaniglia no. Di questi invece dei moci di prima. Solo quelli alla frutta. Alla vegani. Quindi mango e frutta della passione. Vegani. Pistacchio e temaccio. E neanche cocco mi sembrano fosse. Ok. Io vi ringrazio di essere arrivati fin qui. Sperate che questo video vi sia interessato. Appunto è stato un video che. Era proprio richiesto. Quindi ho voluto accontentare una richiesta di molti di voi. E vi ringrazio. E noi ci vediamo al prossimo video. Vi voglio bene. Che li spero.